Questa funzione la possiamo vedere come f di x più k, dove f di x è logaritmo naturale di x, l'ho scritto qua, e k vale meno 2. Il grafico che disegneremo sarà quello di logaritmo naturale di x traslato lungo la direzione dell'asse x è un spostamento 2 verso destra. Si parte dal grafico della funzione elementare logaritmo naturale di x e si trasla lungo la direzione dell'asse x di 2 verso destra. Perché? Perché alla x aggiungiamo meno 2.